Se s'è più furbo di una hafaina se! Hafaina. Quella è una faina! La faina! Allora, cico, questo è il giornale dei catt choix. Non urlare. Come fa la faina? Come fa la faina, non lo so come fa la faina. Come fa la faina? Come fa la faina? Guardiamo tutto quando dovrete guardare poi quando dovrete guardare! Ma non lo so! курirà! Ma è successo! Uirimavi al faina, stai come fa la faina! La faina ma pare! oh ricapa ma io te ho chiesto come fa la faina no? come fa la seca elettrica ah capito la prossima volta ce la fai tu a la faina e secondo me la faccio peggio dite destina la faina elettrica quei bei fratelloni che io ho i rat tutto a me siete capitane vogliamo cambiare l'animale parliamo del cavallo il cavallo queste sono le corse il cavallo come fai il cavallo? il cavallo lo sai come fai il cavallo lo sai come fai il cavallo lo sai il cavallo lo sai non ne posso più non ne posso più fammi stare un minuto tranquillo stai riempendo di pure dappertutto non ne faccio più ti voglio bene cico fammi stai sentire un momento in silenzio non fare movimento non ti agitare stai sentire io ho scoperto una cosa importantissima che tu sei un genio dei cavalli ti dico di sì tu non lo sai ma sei un genio no io sono cico ma cico è un genio non sono un genio sono cico ma qua è un genio sono due cose staccate un genio no no io sono cico tutto attaccato vabbè sei cico va bene cico tu l'altra volta hai parlato al posto mio a telefono con un mio amico ti ricordi non mi ricordo ma come non ti ricordi su cico quello lì Giacomo non mi ricordo che lo scambiavi per un coccodrillo non mi ricordo Giacomo Furia non mi ricordo furia il cavallo del Weston bravo cico gli hai dato due cavalli un po' la vincente crocchè piazzato proprio ho vinto 20 milioni giocati palle riso ma proprio palle riso o supplì in italiano no no palle riso palle riso eppure frittura all'italiana palle riso e frittura all'italiana eh Gesù quello va proprio in trance ma com'è così città quanto li danno? palle riso 500 uno a 500 otto frittura all'italiana duemila gioco mille piglia duemila bellissima lide a porzione a porzione a porzione a porzione no no cico lo voglio bene ma ti ho pregato non fare continuamente scherzi ho bisogno di soldi tra dieci minuti mi chiama Giacomo Giacomo Furia che gli devo dare due cavalli per fare una scommessa se vengo i soldi no cico non fare no dai è vietato fare le scommesse no cico non è il momento non ci possono fare le scommesse due minuti il commissario non ci possono fare le scommesse facciamo il gioco